eh miseria e chi cazzo di Dio di Dupito e che finto nel frattempo che stavano tu stasera? pizza tu? panettone e cucciavano andone, navetto c'hai pranzo e c'è andato con questo e una puttana c'è una real chance to change the course of medical history stop fighting son, we're just arguing still love each other you're asking too much of us Danny of yourself what does psycho mean? it just means someone who thinks differently can't you see that you have to put your family first i am putting them first if this all works out, we'll be providing for our great grandchildren this is so wrong this conditioning is right he doesn't tell you what's wrong you can wake up now, Daniel I said wake up Judy I don't believe this shit Danny, this is crazy she's no use to us she knows more than she's saying I've got to talk to her again Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video sul canale di Joker PS2 Forever insieme con Joker Progamer siamo qua alla nuova puntata prego prego vai a comprovare aspettiamo aspettiamo nell'ultima puntata ragazzi siamo rimasti si finito finito overalls glasses ah vedete che succede quando sei troppo altavetto vedete? vedete che succede quando vi fate le offerte team Vodafone vengono quelle delle offerte mi dicono ma vedete vado se mi affangola e bafangola adesso mi ammazzo infatti questo voi indipendete dalla team ho accettato le mie offerte vengono e vi distruggo come ho detto nell'ultima puntata che non vedrete mai ecco eh le notizie ragazzi le ricate ragazzi vedrete in maniera più adesso vedrete questo e due cosa si fa scoprire 3 2 1 boh io è nato con un cazzo ok bella bella kill però ti ha detto occhio per occhio dentro per venda occhio per occhio il nel mio occhio occhio attenta l'occhio allora ragazzi devo andare in una stanza comunque pensi tu che qui sta impersonando un commesso della team deve cercare nuovi clienti per cui affidare appunto nuove offerte esatto ci stanno dicendo dai vede e vuole io offro un'offerta a team young che vi ricordate per tutta la vita solamente 30 euro al mese state tranquilli ed è un'offerta dove siete dai vi devo offrire una team supervision da notare anche il quadro aspetta devo vedere un po' si si com'ha? ah pablo picazzo eh picazzo picazzo scusate pablo picazzo stavendo scusatemi ragazzi questo po' purtroppo dovessi andare alla grattalla comunque non lo ricordo perché ha un fatto giorno a provare no 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 c'è non ricordo i comandi ma ricordo doveva andare sì è un mistero ragazzi dai ps2 fai vedere devi far vedere i nostri iscritti che lo vogliono sì vogliamo vedere visto dai forza fai vedere ps2 sono un giocatore curioso giustamente devi tirare la botta quando è al culmine quando è al picco dell'organo per rimanere in tema ragazzi ha una disabilità ti evito di portare dai allora se io entro mi fa male che cazzo voglio dire certo è tutto in tema quello che tanto gioisce che proprio non ce la fa più figlio mi chi cazzo si giorni senza interna la resistenza e benedica ha finito eh sì è durato poco oh eh purtroppo è durato poco di sviluppi devi esercitare di più non mi ricordo che cazzo andare forse ti serve la pizza eh dove cazzo è? la dovevi prendere alla pizza perchè ti raccomando la l'avviso che udito da maschio alfa ragazzi diciamo la verità ps2 non vuole andare avanti perchè si sta eccitando a sentire questi versi da da proprio da moduli se la mente il gioco non so come cazzo andare eh la miseria e chi cazzo ci tia di lupito e chi ci tia di lupito scusate la scurrilità come siamo tamale non ci vuole sapete comunque perchè sapete perchè comunque fai in questo modo quello lì perchè si sta esercitando no perchè lei gli sta facendo vedere le tagliatelle di troia pin di troia pin ragazzi troia per girare le pinze le avevo io bravo ps2 bravo peccato io volevo sentire ancora quale ora la sentirai ora la sentirai meno male penso non sapevo come cazzo abbassato e ps2 se non entri in gusto buco eh giusto eeeh e ce n'è uno dietro mmm triple age approved rimanendo in tema con quelle voci ps2 ce l'hai lungo il fucile giusto giusto fucile che cazzo è che cazzo è meglio che cazzo è meglio dietro oh fatti sentire da dove cazzo è uscito poi non lo so dal buco del proiettivo dove ricaricare come cazzo si carica uno dei possandini ok caricato mmm eccetto ma va affango ricorrere mi sa vai checkpoint raggiunto e mi sa che ti hanno scoperto no te l'ho sentito però ma si è girato e ti ammazza addio questo deve essere l'intro del video l'intro del video questo è stato bello l'intro del video era mirato e non ha sparato bene no perché non l'avevo preso sicuro metta sì quello no quello lì di prima sì ok allora no non c'è proprio davanti ce l'hai attaccati qua sotto la finestra non mi fa attaccare ok attaccati qua no non mi fa attaccare a questo muretto davanti questo scusate ragazzi questo ok ci sono i pinoli di nonna pina pieni di cocaina e di ammetamina e di ammetamina e di ammetamina che ci sono? i pinoli i pinoli di nonna pina quelli che lei usa per stare sveglia la mattina ma tipo una molotov bomba e niente eh vabbè che ci muoche di troppo gioca mi aveva rotto un pochino cura te con i pinoli di nonna pina ok o nonna a pillolino ok ok ne arrivano altri? no l'ho visto l'ho visto non arrivano perchè oh cazzo hanno visto look at the guru ricordiamo che questo è un fucile a canna e mozza uno dei miei fucili preferiti personalmente mi piace di più rispetto al fucile a pomba perchè è più forte se non sbaglio a oh una pistola mi fuggi più danni ma questo è un fucile a canna e mozza è una pistola è un arsenale con i rambi insomma e pinuzza di nonna pinuzza uso fucile a pomba muove la porta abbiamo giocato a chi passa la pallottola chi vuole essere impallinato qua andiamo con il mezzo più leggero che ho guardate che lavatrice della pomba che ci sono e questo nei miei giorni era ma in tutto ciò il commesso da dire se dicendo io adesso potrei essere seduto comodamente in una sedia tipo quelle da gaming a fammi i cazzi miei anche ci sono magari in quei siti dove quelle persone stavano giocendo prima e invece adesso mi trovo in azione per offrire tantissime offerte di miang e di vision e tutto quanto a soldi i proiettili di fugi la pomba eh scusate fucile a canna e mozza mamma mia oddio oddio ti ha visto non ti ha più visto l'estintore ragazzi non va usato in questa maniera please don't try this at home che poi quando l'ammazzo con le cose ambientali è sempre sangue alla schiena eh questo è il succo di pomodoro le restrizioni le restrizioni oddio ti giuro penso che è il suo che è un fantasma era pure oddio ha resistito a fuggire la pomba da vicino attaccati a morto cosa? minga popo perchè aveva sparato i due proiettili aveva l'occasione per dargli mancina per uccelli per cazzo sete riuscirà il nostro daniel team lamb a dare tutte queste offerte Daniel lamb ah team team lamb chiamiamolo team riuscirà team guardate offerta team vision a solo 59 euro e 99 al minuto ma poi se volete c'è il super sconto di 109 euro al secondo giusto ecco con lei ha citato l'offerta infatti si è congelato dal gioco ha detto me ne vado perché devo rinnovarmi team vision secondo me è morto no gli hai dato tutti quanti l'offerta si in modo da andare a pagare perchè ovviamente più stessi più di più vi faccio l'offerta dovete pagarmele direttamente eh è ovvio è ovvio eccolo boh così che cazzo questo due man mi funziona anche a nevozza no no devi ammazzarle attaccati qua eh vabbè distruggele cazzo poi ne volevo uccidere uno e ne ha l'altro un altro Contemporaneamente Il problema è che le pasticche FINDUS sono finite E purtroppo se E che? FINDUS No, devi dare effetto FINDUS FINDUS Ragazzi mi sono eccitato, guardate Mi sono eccitato come un maiale Allora, questo qua è folio Perché hai detto AIJOEL? AIJOEL Ha detto JOEL Ragazzi vi giuro Niente più eccitante di uno Tranne il episodio che dice FINDUS Per me vuole proprio un'eccitazione come non mai FINDUS Cioè ragazzi, guardano la leggenda Che c'era una coppia famosissima Che non riuscivano ad avere figli Che è successa? Questa coppia, per poter Raggiungere quel picco Si, cioè che abbiamo messo la clip nostra In cui il episodio dice FINDUS Se abbiano avuto tra uno Ma ben cinque figli Ah ragazzi In quel momento Cinque le susciutte Come una sfornata di quel pane Ok No, ma quando cazzo Ora sta messo Pregge che sia venito Sta venendo infatti Non in quel senso Prima in tema dei figli Sei mezzo, 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 mezzo Mezzo tipo morto Ragazzi No Questa ragazzi è stato il vino della sera prima Ma cos'è accaduto Ma cos'è accaduto PS2 Ragazzi Questo Episodio Episodio Finisce qua Nel prossimo Episodio Faremo un altro Episodio Minchia Questo qua è una frase da mettere Come tipo Da Ricordatevi Fate attenzione Alle pasticche FINDUS E PS2 Forever E' tutto Ciao ragazzi E' lina mai alon